Queste parole non siano adeguate al ruolo che lui ricopre, pensiamo che noi non ci vergogniamo affatto di essere terraresi, italiani e cattolici. Queste sono le nostre tradizioni, i nostri valori e questo noi vogliamo che rimanga. Il meticiato non ci interessa, il meticiato è un appiattimento dei valori, dei denari della nostra tradizione. Quindi siamo qua per manifestare e per dire che noi su questi argomenti non siamo assolutamente d'accordo con il Vescovo.